Una mala scoperta è stata fatta dagli operatori del CB Club Matteine e della protezione civile di Fano sabato mattina. Uno dei loro mezzi, parcheggiato come altri nella sede operativa del Codma di Rosciano, uno tra i più importanti tra l'altro. Il camion dove vengono caricate le strutture per allestire i campi, come è avvenuto nelle zone del terremoto, nelle Marche e che fa parte della colonna che, pronta a partire, si reca subito nelle zone da soccorrere e stato irrimedialmente danneggiato. Gli operatori, come da operazioni di routine per mantenere in efficienza i mezzi, hanno tentato di mettere in moto il camion, ma in vano, anche se le batterie erano state sostituite di recente, però il pensiero che si fossero scaricate è stato immediato. Ma gli operatori, una volta smontato il vano sotto il cassone, si sono accorti che le costose batterie erano state portate via, cioè rubate, danneggiando così anche il supporto, creando un danno di oltre 500 euro. Scoccia un tantino quando è così, perché tu lavori tanto per poi trovarti in queste condizioni. Difficilmente ci dà qualcosa qualcuno, quindi quelle 100 euro cerchiamo con i servizi e con tutto il resto di guadagnarcele e poi viene fuori che la Mara Sorpresa manda un messaggio a tutti i ragazzi per dire mantenete i mezzi tutti i sabati, fateci un giro perché altrimenti le batterie si scaricano e non partano. Trovare in pratica la sorpresa che da un camion, tra l'altro uno dei più importanti che è da carico, mancano tutte e due le batterie, erano nuove, le avevamo cambiate a breve e quindi dà un po' scoccia a vedere questi atti contro poi un'associazione che giustamente fa, tutte le associazioni fanno difficoltà ad andare avanti perché non è che ci sono soldi pubblici e quindi fa un po' male. Non è la prima volta però che tristemente l'associazione di volontariato, tra le più importanti del centro Italia, sempre in prima linea nei più importanti scenari sia nazionali che esteri, vedi Filippine, viene derubata o danneggiata da individui senza scrupoli e senza cuore. No, non è la prima volta perché molte volte con il gasolio quando trovano il tappo aperto, se lo trovano chiuso lo rompono o se non viene il tappo fanno un buco sopra o un buco sotto così bisogna cambiare anche il serbatoio o un'altra volta sul defendere e quello importante con il vericello per quando c'è la neve ci hanno staccato addirittura il paraurti portando via il paraurti e il vericello e ogni tanto capita ma non è il gesto, sì le 300-400 euro le ritrovi con fatica ma è il gesto che non digeriamo. Grazie. 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 Grazie.